Una prologa di 60 giorni dal 21 dicembre al 21 febbraio 2013 del termine delle pratiche pregresse per le agevolazioni previste dalla legge 949-52, il principale strumento agevolativo per il comparto artigiano. E questo è l'appello lanciato all'assessore regionale Luigi Crisponi dai segretari regionali di CNA e Confartigianato, Francesco Porcu e Filippo Spano. Il prossimo 21 dicembre scadranno i termini entro cui le banche finanziatrici dovranno presentare la domanda di ammissione al contributo previsto dalla legge 949-52 per le operazioni di finanziamento in favore delle imprese artigiane, si legge nell'ammissiva di CNA e Confartigianato. Considerato che il contesto di generale difficoltà renderà problematico l'ampliamento degli strumenti agevolativi, le imprese artigiane potranno contare sulla sola legge 949, ma decine di esse non riusciranno a presentare le domande nei termini previsti. Per evitare ulteriori problemi alle imprese prostrate dalla crisi, CNA e Confartigianato hanno chiesto all'assessore Crisponi di prorogare fino al 21 febbraio 2013 la scadenza delle domande. Altra richiesta riguarda la possibilità che venga consentito al sistema associativo di presentare direttamente su delega dei beneficiari la richiesta di contributo al soggetto istruttore. Questo al fine, concludono Porcu e Spano, che la misura dispieghi tutte le sue potenzialità a sostegno di un sistema produttivo prostrato da una crisi senza fine. Grazie a tutti.